Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale! Io sono Mari e oggi voglio parlare con voi di deodorante, il più buon deodorante che io abbia mai acquistato e che io uso sempre, da tantissimi anni. Ma prima diamo la sigla! Allora, parliamo di deodoranti, parliamo di spusse, di odori che devono essere nascosti, nascosti, ma come nascosti? No, che devono essere eliminati! Perché ragazzi, volente o nolente, scusate, mi avevo una mollichina, ho appena finito di mangiare una brioscina, volente o nolente ragazzi, noi siamo... puzza! È vero ragazzi, l'essere umano emette brutto odore, se non si lava, se suda, siamo brutto odore, sempre, sempre, sempre. Quindi ragazzi, la prima cosa in assoluto è quella di lavarsi, quella di essere sempre lavati, belli e profumati, ma al di là di questo, ci sono dei prodotti che ci permettono di deodorare, quindi di togliere l'odore, il brutto odore dal nostro corpo per un determinato periodo di tempo. Quando io ero più piccola, quando io ero ragazzina, negli anni 80, negli anni 90, c'erano questi spray, questi deodoranti spray che profumavano, ma non toglievano assolutamente, assolutamente ragazzi, il brutto odore di sudore, questa qua è una cosa veramente allucinante, una volta non si poteva, ti dovevi lavare costantemente e spruzzare un po' di profumo, perché non deodoravano, inutile parlarne, non deodoravano. Ultimamente, invece, molti deodoranti hanno dentro delle sostanze che ti permettono di deodorare realmente la pelle per 24-48 ore, e sono molto efficienti, comunque funzionano, nello stesso tempo profumano. Ma io oggi voglio parlarvi di un deodorante naturale al 100%, che non profuma, ma deodora soltanto, proprio fa la vera azione deodorante del corpo, e vi voglio parlare del pietra di potassio, conosciuta anche come allume di potassio. Eccolo qua, questo qua. Allora, questa confezione, questo qua, nello specifico, l'abbiamo comprato allo Shan, è della Forsan Natural World, deodorante minerale, cristallo di allume di potassio asiatico in stick, Green Planet, sì, vabbè, pianeta vera, comunque. La linea Forsan è ispirata ai segreti naturali di bellezza delle popolazioni di tutto il mondo. L'allume di potassio estratto da una cava nelle Filippine è noto per le sue proprietà deodoranti e neutralizzare il cattivo odore, prevenendole la formazione nel rispetto dell'equilibrio fisiologico. Il deodorante minerale Forsan è un cristallo minerale di allume di potassio naturale al 100%. Cosa fa questo allume di potassio? Io la conoscevo come pietra di potassio, l'ho conosciuta più di 25 anni fa. E da 25 anni io utilizzo la pietra di potassio per deodorare. L'ho sempre acquistata sotto forma proprio di pietra. Come si utilizza? Si bagna sotto l'acqua con le mani e poi te la passi sotto le ascelle o la passi dove vuoi, anche sotto la pianta dei piedi e vedrete per chi soffre di piedi maleodoranti durante la giornata, magari perché utilizza sempre scarpe da ginnastica o comunque perché ha questo problema, vedrete che per 48 ore il vostro corpo avrà la sua respirazione naturale, la pelle ha la sua respirazione naturale perché semplicemente una pietra bagnata dopodiché vi asciugate, ovviamente dovete essere prima puliti e profumati, più che se no, e vedrete che l'odore di sudore non lo sentirete veramente, ve lo posso assicurare per almeno 48 ore. Ed è una pietra resistentissima, vi dico che questo qua non l'abbiamo comprato un po' di mesi fa, ma non vi scherzo se vi dico che questo qua lo potremo utilizzare per uno o due anni, perché si consuma veramente pianissimo, voi lo dovete semplicemente bagnare sotto l'acqua, ve lo passate sotto le ascelle, lo passate dove volete e lo asciugate, dovete aver cura di asciugarlo subito, perché se no si ossida, si rovina tutto quanto, questo è molto comodo perché si trova già in stick così, è ben fissato dentro questa base, mentre devo dire la verità che prima io ho sempre utilizzato la pietra che va posata sopra una base di sughero perché se no rovina il mobile, però la pietra volente o non volente, prima o poi ti scivola dalle mani e ti cade e si rompe in mille pezzi. Io ho un cassetto pieno di tanti pezzettini piccolini di questa pietra di potassio, di questo allume di potassio e molti di questi pezzettini, quelli più grandi, me li metto dentro la pochette quando esco, perché sempre mi capita, soprattutto io quando vado a fare i matrimoni fuori, vado a cantare fuori e sto fuori catania, quindi per diverse ore magari mi posso rinfrescare durante l'estate, mi rinfresco e mi passo il deodorante, anziché portarmi sta gran pietra che pesa tantissimo, questa qua magari la lascio a casa e mi porto le pietroline piccoline che sono comunque comodissime, una volta che sono rotte le utilizzo in altri modi, quindi la metto una in una pochette, una la metto in un'altra parte, insomma riesco a trovare l'utilizzo. Un altro deodorante che io ho trovato veramente ottimo per i piedi, se non volete utilizzare proprio questo qua, perché sotto i piedi lo dovete utilizzare a piedi puliti ovviamente, quindi, ma se non volete utilizzarlo sotto i piedi, sotto la pianta dei piedi, io ho acquistato questa crema qui da acqua e sapone qualche mese fa e devo dire che veramente è ottima, è della Podovis, benessere di piedi e gambe, deodorazione, deodora per 48 ore, azione antiodore extra forte, formula originale svizzera, questo qua praticamente ha anche l'estratto di bambù, ha delle piccole pietroline che io sento proprio sulla pelle, che credo che sia l'estratto di bambù a questo punto e questo ha anche l'allume di potassio dentro, allume di potassio minerale presente in natura per un'azione antiodore, alga rossa hawaiiana per mantenere la pelle morbida e idratata, senza parabeni e siliconi, contiene ingredienti naturali dalle importazioni di proprietà cosmetiche, estratto di bambù antibatterico naturale delle proprietà rinfrescanti e lenitive, questa è fantastica pure, quindi contiene allume di potassio pure questa, non è 100% naturale, però è molto buona, non ha siliconi, non ha parabeni, quindi mi sono trovata molto bene anche con questa e questo qua invece ragazzi è fantastico, questo secondo me è il vero deodorante, perché i deodoranti che si comprano solitamente deodorano perché contengono un po' di allume di potassio, ma nello stesso tempo profumano, invece se voi avete il piacere di indossare solo e semplicemente il vostro profumo preferito e deodorare, togliere l'odore, quindi disodore dalla vostra pelle e sentire solo il vostro profumo anziché sentire il deodorante più il profumo e poi non si capisce più niente, secondo me dovreste provare questo, ovviamente questo video, per questi due prodotti non sono stata né pagata né sponsorizzata, li ho comprati da me, questo perché lo compro sempre, questa volta l'ho trovato in stick e lo trovo molto pratico e questo perché l'ho provato e mi sono trovata bene, quindi mi andava di parlarvi di questi prodotti, era da tanto che volevo parlarvi dell'allume di potassio perché è un ingrediente naturale, un cosmetico naturale che serve veramente per deodorare, ma non solo l'odore del sudore, anche quando cucinate, magari avete le mani che puzzano di aglio, che puzzano di cipolla e non vi piace, passate sotto l'acqua la pietra di potassio fra le mani e vedrete che magicamente se ne va l'odore di cipolla, l'odore di aglio se ne va magicamente ed è fantastico, l'allume di potassio però non ve lo posso assicurare, dicono che abbia anche delle proprietà cicatrizzanti, ha un sapore ad asciugare, quindi ad attirare l'umido, ad assorbire l'umido, quindi ho provato a passarlo su qualche feritina, però brucia questo perché è fortemente acido, dicono anche che se hai delle afte puoi provare a passare, io ho utilizzato le pietroline, a passare un pochettino di allume di potassio sulle afte quando capita, a parte sentire quell'odore asprissimo, quindi se non vi piace evitatelo, però vi posso assicurare che è veramente ottimo, voglio però, io l'ho provato sulla mia pelle, prima di provarlo voi andate a cercare su internet e vedete se lo potete fare, perché non mi va di dare consigli se prima non sono sicura al 100%, sulla mia pelle posso provare, ma sulla vostra non vi posso dire di farlo, quindi prima di fare una cosa del genere accertatevi su internet che si possa fare, magari su un sito affidabile, tra l'altro. Bene ragazzi, con tutto questo io ho terminato anche questo video, spero che questi miei consigli vi possano essere utili, dietro il mio paramento ci sono i cagnolini che stanno facendo la guerra e quindi adesso vi saluto perché li devo zittire in qualche modo, mi zittisco pure io che ho parlato tantissimo, vi saluto, grazie per avermi seguita, fatemi sapere se conoscevate già questi prodotti, se vi piacerebbe provarli e basta, ci sentiamo, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando se ancora non l'avete fatto iscrivetevi, 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 mettete mi piace, attivate la campanella delle notifiche per essere sempre informati su tutti i video che pubblicherò e basta, ci vediamo la prossima volta, al prossimo video, ciao a tutti e dalla vostra mano, muah!